Dieci persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle indagini della Procura di Trani sul crack finanziario della Casa Divina Providenza di Bisceglie, con sedi anche a Potenza e Foggia. Tre persone sono in carcere, sette ai domiciliari. Tra queste anche due suore che gestivano l'ente ecclesiastico, suor Marcella Cesa e suor Assunta Pulsello. Rispondono a vario titolo di associazione a delinquere bancarotta fraudolenta. Le indagini della Procura di Trani riguardano un crack da 500 milioni di euro circa, subito dalla congregazione Ancelle Divina Providenza, oggi in amministrazione straordinaria, dopo la richiesta di fallimento avanzata dalla stessa Procura di Trani. I finanzieri hanno sequestrato la somma di 32 milioni di euro circa e un immobile destinato a clinica privata a Guidonia. Il denaro e l'immobile sarebbero stati fittiziamente intestati ad altri enti ecclesiastici paralleli, gestiti dalle suore della congregazione, nel tentativo di sottrarsi ai creditori e quindi anche allo Stato. Tra i destinatari del provvedimento di arresto ci sarebbe anche il senatore di NCD, Antonio Azzollini, richiesta di arresti domiciliari già notificata al Senato. Siamo riusciti a smascherare questo progetto criminoso che si protraeva tra anni in danno dei malati, perché non dimentichiamo che la struttura era stata creata dal Beato Donuva per seguire, per curare i malati di mente e i malati anche fisici. Tutto questo in buona parte è stato tradito. Dei 500 milioni di euro a cui ammonta il crack delle case di cura, oltre 350 sono rappresentati dai debiti nei confronti dello Stato. L'indagine, durata tre anni, si è articolata in numerosissime acquisizioni documentali, perquisizioni, accertamenti, intercettazioni telefoniche e sequestro di conti correnti bancari. Fondamentale nell'indagine che ha portato agli arresti la preziosa collaborazione fornita dallo IOR Vaticano.